A le mie spalle lo Chalet Medusa, fiore all'occhiello dell'accoglienza balneare sanbertese, frequentatissimo non solo per la sua spiaggia ma anche per le sue serate, non solo d'estate ma anche nella stagione autunnale e primaverile. Nella notte tra il 9 e il 10 marzo un incendio ha colpito proprio lo Chalet Medusa, sono in corso indagini per capire se si tratta di un incendio di tipo doloso o accidentale, i danni comunque sono ingenti come potete vedere dalle immagini. Immediatamente dalle prime ore della mattina di lunedì 10 marzo la notizia si è sparsa immediatamente in tutta San Benedetto, tantissimi di San Benedetti si stanno accorrendo davanti allo Chalet Medusa per vedere quello che è accaduto. Tutto sarebbe avvenuto attorno alle 23 del 9 marzo, alcuni passanti si sono accorti delle fiamme che uscirono dai locali dello Chalet Medusa, hanno visato subito i vigili del fuoco che sono accorsi per spegnere l'incendio.